Allora diamo il benvenuto al dottor Roberto Burioni Benvenuto Burioni, benvenuto Per completezza di informazione tengo a ricordare che non sono soltanto un medico ma detengo anche la cattedra di microbiologia e virologia all'università San Raffaele di Milano Si si ma era solo per sintetizzare Si comincia così, sminuendo il prestigio di una cattedra e poi magari si finisce a curare il morbillo con le pilloline ziguline No, 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 no Noi più che altro siamo sorpresi di averla qui trattandosi di un programma di intrattenimento mi chiedo come mai uno scienziato appunto come lei cosa fa? Beh diciamo che la mia presenza qui è frutto di un percorso di autoanalisi In questi mesi ho capito che il modo migliore per combattere falsi miti bufale, complottismi è quello di partire dal basso di sforzarsi di riuscire a comunicare con le persone meno istruite, più umidi E questo è il programma giusto Ma il nostro pubblico, no, scusi, scusate, fermi, scusate, no, che applaudite Adesso abbia rispetto, il nostro pubblico non è fatto di persone poco istruite No, io parlavo di voi due Ah, di noi, allora sì Perché bisogna alfabetizzare il popolo in campo scientifico E' come una missione, è come Dante è sceso fra i dannati Come madre Teresa si mescolava fra i lembrosi E' come qui a quelli che il calcio Ah, grazie, mi sembra proprio... Comunque, al di là di quello che lei dice e del suo giudizio sul programma Siamo felici di confrontarci con lei No, scusate, confrontarci è un parolone, Paolo Magari prima se vi prendete una laurea o un dottorato di ricerca Una specializzazione, allora magari possiamo confrontarci Oppure, molto meglio per voi, più semplice, io parlo, voi ascoltate E alla fine vi ringraziate perché avete imparato qualcosa Sì, 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 no, però io... Attenzione, attenzione, a Udine la Fiorentina ha pareggiato con un golo strepitoso di Eddie Wilson Fernandez Un gran tiro che ha gelato il portiere argentino della formazione filulana Musso Quindi uno a uno fra Genoa e Sassuolo e uno a uno fra Udinese e Fiorentina Dateci un flash su questo gol Gol molto bello, un po' inatteso perché la Fiorentina non stava giocando bene L'Udinese dava la sensazione di poter controllare Poi invece Eddie Wilson ha indovinato la gran battuta da una trentina di metri Forse 28, indovinando il paletto più lontano Busso niente da fare uno a uno Bisogna essere grazie Bisogna essere precisi Bisogna essere precisi anche se il professor Burioni molti le fanno notare Che certo lei esprime delle opinioni ma potrebbe esprimerle anche in un modo come dire meno arrogante Avete ragione, avete ragione, devo migliorare Me lo dice sempre anche il mio psichiatra, devo calmarmi, devo tenere il profilo molto basso Ecco giusto, quindi cerchi di star camo, stia tranquillo qui, tanto siamo tra amici quindi insomma noi siamo dalla sua parte Sì, dalla mia parte però molto più in basso Sì, sì, come se io pretendessi di confrontarmi con voi sul migliore centro massaggi cinese a Milano No, no, in qualche caso voi parlate, io ascolto e imparo Allora, su Facebook molte mamme dicono che i vaccini sono inutili perché gli anticorpi i bambini se li fanno anche giocando per terra Ecco, come reagisce a queste cose? Sempre tenendo la calma E come volete che reagisca quando sento queste cose È chiaro che si tratta di credenze senza alcun tipo di fondamento Perché il potere immunizzante di un vaccino non è minimamente paragonabile con quello dello sparco domestico Sì, 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 ha rotto gli occhiali Ha rotto gli occhiali Mi capirete, mi capirete perché quando uno come me si prodiga per diffondere il proprio sapere che tengo a ricordare No, cioè è sconfinato Invece è costretto a dialogare con dei macachi L'unica cosa che hanno letto nella loro vita sono le istruzioni di un gratte vinci Cioè è normale che uno un attimo possa dire che uno gli salti da mosca al naso Quanti occhiali ha però Sono usa e getta, state tranquilli Comunque, senta, con tutto l'affetto noi vogliamo aiutarla Glielo chiediamo anche per il suo bene Le va di rispondere in maniera davvero tranquilla adesso Ha una domanda arrivata per lei dal nostro telespettatore Me l'hanno proprio portata prima Mi piacerebbe che lei si misurasse proprio con questa cosa arrivata Se rispondo poi posso andare? Sì, 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 certo, certo Però stia calmo, eh È arrivata proprio adesso quindi è un piacere che lei si confronti Allora, mi metto un attimo in... No, aspetta, allora... Tranquillo TerraPiattista62 scrive Sì Sì Ecco, bravo Stia calmo, stia calmo Gentile professor Burioni Mia cugina ha letto su Facebook che il gruppo sanguigno 0RH negativo Sì Appartiene a una specie aliena Beh, è possibile Lei che è un virologo di fama mondiale Mi saprebbe dire quale... Ecco Ecco, adesso le faccio un bel respiro, Burioni Un bel respirone Mi alzo i piedi che mi viene molto meglio Allora, caro TerraPiattista62 Sì Ti ringrazio per il tuo quesito Forza, perfetto Andando benissimo Benissimo, perfetto Allora, avendo studiato per anni i flussi e le componenti molecolari dei vasi sanguigni Ci siamo, bravissimo Mi sento di dirti che l'unica specie aliena parzialmente compatibile con il gruppo 0RH negativo È fatta, benissimo È quella proveniente dal pianeta fanculo No, no Dove lo avrei te Quella mentecatta di tua cugina No, no La mentecatta non è No, è andato bene È celebrata di tua cugina È celebrata di tua cugina È celebrata di professore Burioni Grazie, professore Burioni Grazie Parlava a te Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti